musica 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 ah io che c'ho fretta eh madonna mia eh va bene scontrino oh mamma mia il codice dunque la nata di nascita mia moglie 27 12 40 ecco qua ecco qua si allora ah ah un momento finisco subito eh chi è? chi è? cosa sta facendo lì qua? cosa sta facendo? sto facendo un prelevo intanto ci risposta che ce l'ha privaci la devi guardare eh privaci privaci cosa privaci a me ne fregassano a me cosa deve fare? adesso devo fare il numero il numero di che? della carta di conto che mi dà i soldi e finchè escono i soldi finchè escono i soldi finchè io gioco io ma cos'è questo? una cosa del banco lotto? ma mi interessa lei si sposti anche se è vigile tanto di rispetto però si sposti che devo beh certo il vigile deve vigilare e deve tutelare il popolo e le banche ma insomma non posso fare che tu prelievo non posso fare ho sempre in mezzo per me ma sempre con me ah stai facendo un prelievo eh stai facendo un prelievo eh stai facendo un prelievo cosa devo fare secondo lì? ah non fanno questo il prelievo lì? no cosa devo fare? qua c'è il codice nascosto c'è il vento per fare il prelievo al banco ma ci vuole la ruspa? ci vuole caro signore guarda che è la ruspa ehi la ruspa ehi cantita c'è a te qui eh ma io non ce l'ho la ruspa eh vada se la procuri eh ma non lei ce l'ha guarda a 150 metri c'è un coso c'è un cantiere lì l'hanno aperto adesso ommo ommo e danno il cantiere giù dove fanno la casa del studente lì? ho capito c'è ci sono tre ruspe vedrà la più adeguata cosa se prende le misure qua dell'ingresso ah 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 una ruspetta eh ma c'è traffico caspita il traffico adesso guardimi tra un po' il traffico scema e lei mi aiuta scema io al limite bro con il traffico ma devo passare eh a prenderla qua eh cosa non è possibile eh no no non lo faccia con questo che ci sono cominciati qua di chi ci sono fatto se prende una bella ruspa e vedrà che prelievano le nascure e se oggi è sabato e ruspe non ce ne sono no ma no oggi non stanno lavorando e soffermi le ruspe ma gliele devo dire io queste cose ah 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 grazie signor Piccile eh se no io scrivo qua questi piccoli di salsanitica eh troppo dolce la ruspa eh va bene mi tenghi in posto signor Piccile